Quanto c'è dentro quest'arancio? Quanto sudore, ingiustizia c'è dentro quest'arancio? Io sono operatore sociale, lavoro da cinque anni a Lampedusa, nel Mediterraneo, in Libano, Marocco, ma prima ancora io mi sono trovato a lavorare e a fare attività sociale dentro i campi, in Italia, nei campi dell'ingiustizia, dove i braccianti vengono utilizzati come braccia, dove vengono considerate soltanto persone. Questo disegno rappresenta la frontiera che si lega nei campi e rappresenta anche il bracciante, il migrante, che diventa esso stesso frutta. È come se a un certo punto le arance, i cocomeri, i pomodori, le arance di Rosarno, le angure di Nardò, i pomodori del Foggiano, diventassero parte viva di queste persone, intrecciate dal firospinato della frontiera che gli si lega addosso per tutta la vita, come una maledizione. Sono in pugno a gente che è venuta dalla loro terra, che ha fatto il loro stesso percorso, a caporali, caponeri li chiamano, li tengono, li vendono come grappoli di uomini al miglior offerente, abbassando il costo del lavoro, cercando fino in fondo di utilizzare la loro vulnerabilità per costruire profitto. Io li ho visti così nelle campagne di Nardò nel 2011, bere acqua dai tubi dell'irrigazione perché non volevano dare soldi ai caporali che gli prendevano il loro poco salario utilizzando il ricatto, il ricatto del trasporto, il ricatto dell'acqua, il ricatto della cucina etnica, il ricatto del fatto che ti trovo lavoro, il ricatto che tengo in mano i tuoi documenti. A differenza dei braccianti degli anni 50, a differenza dei braccianti che organizzava di Vittorio, i braccianti, i migranti hanno un muro che li rende invisibili, non sono cittadini, non vivono dentro le città, non hanno la piazza per confrontarsi, sono soli nelle campagne, soli, la solitudine, la solitudine che coincide con la vulnerabilità più estrema, più totale, la solitudine che li costringe a vivere sotto gli ulivi, dentro casolari abbandonati, dentro baracche. A Rosarno c'è una baracca fatta da mianto, da mianto. Io quando ho detto ai ragazzi, ma come fate a vivere qua dentro? State rischiando la vita respirando a mianto? E loro mi hanno detto, noi qua abbiamo un tetto, anche se da mianto. Fuori da questo tetto abbiamo soltanto ingiustizia. Quando tu entri dentro i campi, sia quelli formali, sia quelli informali, la cosa che trovi spesso in giro sono bustine di occhi, bustine, bustine di occhi. Io lavorando, facendo questo lavoro ho imparato a guardare i segni, gli elementi più particolari, che costruiscono però il contesto. Una bustina di occhi lasciata in terra, vuol dire che loro quando finiscono di lavorare, quando tornano nella loro tenda, nel loro giaciglio, consumano l'occhi perché hanno mal di testa, perché hanno mal di muscoli. E quindi il giorno dopo devono rifare e ripartire, e rifare decine di chilometri in bicicletta rischiando la vita, per ritornare a lavorare sui campi di lavoro. E quello che mi colpiva in quei giorni, nel 2011, era la pelle di queste persone. Il fatto che tu non ti puoi lavare, il fatto che non puoi lavare i vestiti perché non è nulla, non è un luogo per far la doccia, molto spesso determina delle irritazioni che a lungo andare diventano piaghe. Ecco, questo disegno per me vuol dire molte cose, questa mano che emerge dai campi dell'ingiustizia legata al filo spinato. Questo filo spinato lo troverete moltissimo nei miei disegni, è un filo spinato che si lega alla pelle come una maledizione, perché, vedete, non c'è cosa più sintetica per spiegare oggi cos'è la guerra dei ricchi contro i poveri che il filo spinato. A un certo punto, però, mentre io mi trovavo a guardare questa condizione di estrema vulnerabilità, di persone invisibili, mi sono ritrovato in una mattina, sul finire di luglio, in una storia che mai avrei pensato. Per la prima volta ho visto gli ultimi, i più vulnerabili, iniziare a dire no. All'ultimo ricatto del caporale ho visto braccianti che hanno detto no. E mi sono ritrovato in mezzo a uno sciopero, il primo sciopero dei braccianti in Italia, che chiedeva controlli nei campi, chiedeva salari dignitosi, chiedeva la lotta ai caporali, chiedeva sostanzialmente una cosa. Questi lavoratori chiedevano di essere considerati lavoratori e non clandestini. E questo elemento per me è stato un elemento fondamentale, perché io da quel luglio del 2011, da quella lotta, da quello sciopero durissimo di queste persone, ho iniziato a camminare, ho iniziato a capire qual era quel luogo che metteva il filo spinato sulla pelle di queste persone. Così, come un cammino verso sud, io dal 2011, piano piano, ho iniziato a spingermi verso la frontiera. E la frontiera, me la sono trovata davanti in un ottobre del 2013, quando con un progetto delle Chiese Valdesi vengo a trovarmi a Lampedusa e trovo in quello lo scoglio, in mezzo al Mediterraneo, trovo tutto il significato, trovo tutto quello che oggi è il terreno delle migrazioni messo a sintesi. E comincio a indagare, comincio a fare delle domande, comincio a guardare, comincio a disegnare. I miei disegni sono vorticosi, io non disegnavo prima. Ho iniziato a disegnare in una notte d'agosto, dopo l'ennesima tragedia. C'era Scirocco, avevo dei colori davanti al tavolino, per caso li prendo e inizio a fare questi vortici, con questi colori vivi, sulla carta, quasi a romperla. E da quel giorno io inizio a disegnare, faccio centinaia di disegni, che poi diventano racconto. Inizio questo racconto sulla frontiera con la sirena. La sirena è un mito, il Mediterraneo è uno straordinario luogo di miti. C'è chi dice che il mito non è altro che un ponte che connette l'universo dei significati con la realtà. E' la sintesi, sono storie su storie, narrazioni su narrazioni, che a un certo punto trovano forma e ci permettono di rappresentare il presente. Cos'è quella sirena che chiama le persone? E' un canto. E' un canto, è il canto dell'Occidente. E' il canto dei nostri cellulari, è il canto di un mondo completamente connesso, che descrive l'universo dei significati, che descrive l'universo dei desideri. Fra questo canto della società occidentale c'è però un mare e c'è un tramonto, un tramonto di fuoco fatto di un vento che spinge via queste persone dalla terra dove sono nate. Il cambiamento climatico, le guerre, l'ingiustizia, l'aumento demografico. E fra questa sirena, fra questo barcone di persone che arrivano c'è un filo spinato in mezzo al mare. Il mare che diventa spinato. Conosco Keita in un'estate del 2015 a Ceuta. Ceuta è una enclave di terra spagnola in Marocco. Ceuta e Meliglia. Sono due piccole città di epoca coloniale che Franco si è preso al Marocco per marcare quel territorio, per controllare lo stretto di Gibilterra e sono città cinte di filo spinato. Non è questo filo spinato che buca la pelle, è un filo spinato diverso. È un filo spinato che taglia, fatto a bisturi. I ragazzi, a centinaia, vivono dentro la foresta e provano a fare il salto. Se riescono a passare dicono, boh, da, ce l'abbiamo fatta. La loro pelle è un libro di tracce, di segni. Keita, quando lo conosco, ha 16 anni, viene dalla Guinea Conakry. La prima cosa che mi fa vedere sono le gambe. I primi segni, quando lui dalla Guinea Conakry salta la frontiera dall'Algeria al Marocco per arrivare verso Ceuta. Poi mi fa vedere la pancia, dove ci sono i segni di una bomba messa dall'altro gruppo etnico quando lui andava a scuola. E poi ci sono i segni sulle braccia. Per sette volte, sto ragazzino, sette volte prova a fare il salto della barriera. Sette volte. Sette volte vuol dire tagliarsi, ferirsi e curarsi le ferite con lo scotch. La cosa che mi colpisce, questo ragazzino, è che c'è un vecchio cellulare. Lui ogni giorno fa decine di chilometri, esce dalla foresta, va a cercare da mangiare nei rifiuti, si connette ad un bar, si connette ad un bar. Io parlo con lui di corridoi umanitari, cerco di costruire con lui una forma di intervento per portarlo via, per provare a costruire un'alternativa al salto. Ma non ci riusciamo. Non riusciamo ad aprire il corridoio umanitario dal Marocco. E Keita allora mi scrive, perché io vado via, ritorno a lavorare a Lampedusa, e Keita mi scrive, mi dice su Facebook, amico mio, io non ce la faccio più. L'ultima volta che ci hanno preso le polizie marocchine, ci hanno portato in mezzo alla foresta, ci hanno picchiato talmente tanto, che un mio amico è scappato all'orbita dell'occhio. E poi ci hanno riportato su. Io vado via. E io penso che Keita torna a casa sua. Invece no. Keita dal Marocco va in Algeria, dall'Algeria va in Tunisia, e della Tunisia scende giù e mi scrive, sto per arrivare in Libia, ho il contatto, fra 15 giorni parto. È il periodo in cui Mare Nostrum viene sospeso, e quindi parecchie navi che partono dalla Libia non trovano più le navi di Mare Nostrum e affondano. Il mar Mediterraneo restituisce decine e decine e decine di corpi sulle spiagge. E io sto lì a Lampedusa a contarli dieci, cento, mille. Sai quella sensazione che ti prende quando pensi che un tuo amico è morto? Perché passa un mese, passano due mesi, passano sei mesi. È una sensazione strana, perché io vedo in quei mesi mori un sacco di gente. Vedete, una delle cose più dure per me non è raccontare queste storie, ma è tornare qua, entra dentro il bar, sotto casa tua, fare il pranzo con i parenti di Natale e sentire cose abominevoli. Vedete, quando va sotto un barcone, la prima cosa che io penso è il peso dei bambini, perché quando sei al Molo Favarolo i bambini trattano per primi perché i genitori stanno rannicchiati, per tanto tempo camminano male e tu li prendi in braccio e senti il peso. E sai che quando va sotto un barcone, un gommone, ci danno cinque, dieci, quindici. Il 31 agosto del 2017 ci chiama la Capitaneria di Porto e ci dice c'è una barca da 1200 persone che sta arrivando a Lampedusa, è una grandissima nave. Ci sono 1200 persone che devono sbarcare perché si stanno rivoltando, loro pensano che li vogliono riportare in Libia, quindi arrivano 1200 persone. Sono un paese 1200 persone. Noi siamo lì, gli diamo le coperte termiche, gli mettiamo le coperte termiche addosso e quando gli metti la coperta termica li massaggi, senti che sono freddi. Gli diamo il tè, gli diamo l'acqua. Se ci abbiamo qualche gioco lo diamo ai bambini, che hanno ancora la paura delle onde dentro gli occhi. Non finiscono più di sbarcare quella notte. Una delle cose che facciamo è guardarli negli occhi, perché quando arrivano dalla Libia hanno la testa bassa. Guardarli negli occhi e gli dici benvenuto frate. Dopo due, tre ore, da in fondo al molo mi sento chiamato, Francesco, Francesco. I miei colleghi sono tutti in fondo, nessuno dei poliziotti mi conosce. Ma chi è che mi chiama? E comincio a andare in mezzo a queste persone, cingalesi, nigeriani, eritrei, somali. E rivedo lui. Rivedo Keita. E faccio la cosa che tutti quanti voi avreste fatto. L'abbraccio. Bella frategnine fatta, lo tengo stretto. E mentre io lo tengo stretto vedo i sguardi della polizia di Frontex colpiti da questo gesto. Dal fatto che in un luogo, in un palcoscenico che costruisce la paura fra noi e loro, io, con un semplice gesto di un amico, rompo questo schema. Ed è lì che capisco dov'è che gli viene messo addosso il filo spinato. a queste persone. È su quel molo. In cambio della loro vita loro cedono la dignità. I ragazzi tunisini che oggi arrivano a Lampedusa spesso vengono rimpatriati. Un giorno davanti le scalette della chiesa di Lampedusa trovo un ragazzo che si sta cucendo la bocca con il filo per protesta perché non vuole essere rimpatriato perché un suo amico si è impiccato due mesi fa. E lui mi dice una cosa che mi sconvolge. Mi dice perché voi italiani potete venire in Tunisia con la carta di identità e noi gli altri dovremmo prendere il barcone. Perché i vostri giovani che non trovano lavoro a centinaia di migliaia possono andare ovunque con i loro troll e i Ryanair e noi dobbiamo prendere il barcone. Perché i vostri pensionati vengono in Tunisia perché non arrivano più a fine mese e vengono a vivere da noi e noi dobbiamo prendere il barcone. Chi è che decide? Chi è che decide che i ricchi possono viaggiare sopra le frontiere e i poveri no? Il Libano quando tu entri dentro un campo profughi ti arrivano tanti bambini intorno e sti bambini ognuno ti porta dentro una tenda ti tira da una parte e dall'altra sono tantissimi e ci sono donne e bambini con la guerra dietro le spalle avere la guerra dietro le spalle vuol dire lasciare il tuo paese senza progetto devi farlo per forza e forse non puoi più rientrare perché quella è una guerra etnica feroce le guerre etniche segnano il paese dove tu sei nato e vivono lì in quei campi generazioni su generazioni senza cure sanitarie senza scuola un bambino era caduto dal secondo piano si era spaccato il femore abbiamo tirato su 9500 euro per fargli l'operazione l'ospedale americano ne voleva 10.000 l'hanno lasciato per tre mesi perché mancavano 500 dollari dentro una tenda su un materassino oppure trovi la donna siriana che sta morendo col bambino che gioca fuori in una pozzanghera che ti dice dammi 150 dollari perché voglio tornare a morire in Siria ecco perché disegno per il senso di impotenza le donne siriane sono in equilibrio sulla frontiera camminano a piedi scalzi su questo filo spinato perché a piedi scalzi perché lasciare il proprio territorio perché migrare non è bello come qualcuno ci vuole fa credere è sofferenza e sono in equilibrio rischiano nel loro viaggio di cadere tra le onde l'ultimo corridoio umanitario che ho fatto qualche mese fa ho incontrato un genitore che era partito col barcone verso Cipro a un certo punto questo barcone si ribalta gli muore un bambino di 5 anni lui viene arrestato gli impediscono anche di andare al funerale e la cosa che mi sconvolge è che questa persona mi dice io devo ripartire io devo ripartire perché qui noi siamo già morti è sconvolgente sta cosa uno non si può rendere conto di quello che vuol dire molte volte quando incontro siriani famiglie soprattutto che arrivano a Lampedusa la prima cosa che gli dico è perché rischiate così la vita e loro mi dicono noi partiamo perché qui siamo già morti era una frase questa che io non comprendevo ma poi andando in Libano la capisco la speranza di migliorare la propria vita di uscire da una condizione senza possibilità alcuna di migliorare la propria vita di vedere i tuoi figli crescere così quella speranza è un fattore potente che ti porta a rischiarla la vita in mezzo al mare un ragazzo nigeriano mi diceva noi facciamo lo stesso percorso lo stesso percorso degli oleodotti dei gasdotti delle cose che ci portate via da sotto i piedi siamo sempre come dire ci riempia la bocca di parole come andiamo a aiutarli a casa loro se vogliamo aiutare a casa loro la prima cosa che dobbiamo fare è andare via da casa loro e portar via l'eni dalla Nigeria dalla Libia la Total e le guerre che si portano addosso perché questo ragazzo nigeriano mi diceva noi facciamo questo cammino ma a un certo punto il petrolio passa noi no noi sbattiamo la pelle su questa frontiera e la sbattiamo perché siamo poveri perché se eravamo della borghesia africana se eravamo cantatori rap famosi se eravamo giocatori di calcio ci passavamo sopra la frontiera chi ci sbatte la pelle sulla frontiera suoi poveri i migranti col loro cammino ci pongono delle domande ci dicono che c'è un cambiamento climatico epocale che questa ingiustizia di mondo ci sta portando al collasso democratico demografico climatico ci dicono che dobbiamo smettere di alimentare le guerre lo fanno pacificamente scappano dalla condizione di miseria di guerra dentro la quale l'abbiamo collocati e invece di rispondere a questa domanda l'Occidente ricco e possente risveglia Medusa ma Medusa non è più la Medusa che abbiamo conosciuto nei miti è diversa i suoi capelli sono filospinato che taglia la società che ci mette contro che ci spaventa uno contro l'altro il suo sguardo è uno sguardo che mette paura non pietrifica le persone ma pietrifica la coscienza e quando ti hanno messo paura possono farti credere di tutto che le migrazioni fanno la miseria che le migrazioni portano le malattie e possono anche insegnarti a odiare e possono anche disciplinarti all'indifferenza e questo provoca l'Occidente un mare spinato un mare spinato un mare che mangia vive le persone le porta giù con sé e lo fa gratis gratis non come le milizie libiche non come Erdogan non come il governo nigerino no il mare mediterraneo porta via queste persone se le porta con sé e ha il compito di spaventarle ha il compito di dire che se provano a forzare le frontiere che i ricchi hanno costruito per loro non c'è nessuno tipo di salvezza non ci deve essere e così si ribaltano i significati la miseria diventa colpa la solidarietà diventa crimine e il privilegio diventa valore eccolo il mondo che hanno disegnato e il mare spinato produce questo questo è stato uno dei primi disegni che ho fatto si chiama il cimitero dell'indifferenza quando l'ho fatto era il 2014 23.000 morti sapete a quanti morti siamo arrivati adesso? a 39.000 e parliamo soltanto del mare non del deserto non di quello che accade nei lager 39.000 è come se tutta castella è andata sott'acqua 39.000 e queste persone muoiono due volte la prima volta perché smettono di respirare e la seconda volta perché non hanno più nome cognome memoria questa montagna di barche perde colore come quando tu perdi colore andando sott'acqua dopo i 30 40 50 metri tutto diventa blu scuro è un cimitero di indifferenza Lampedusa 3 ottobre 2013 arriva un barcone con più di 400 persone è buio è notte in gran parte sono eritree le donne eritree sono cristiane quando arrivano a Lampedusa la prima cosa che ti fanno vedere sono queste grandi collane di plastica con una croce enorme al centro quella notte quelle donne vedono le luci di Lampedusa cantano come fanno sempre le eritree a occhi chiusi e mani aperte signore grazie signore grazie che mi hai lasciato dietro le spalle la Libia signore grazie che mi hai lasciato dietro le spalle le onde signore grazie che mi hai fatto arrivare a Lampedusa ma no si rompe il motore e la barca piano piano va verso gli scogli e comincia entra l'acqua dentro racconteranno che a un certo punto arriverà una barca e gli gira intorno e se ne va racconteranno poi che ne arriverà un'altra l'illumina senza soccorle e se ne va così a un certo punto uno di loro preso dalla paura prende una coperta la imbeve di benzina e dice adesso gli do fuoco in maniera tale che da Lampedusa vedono il fuoco e ci vengono a soccorre e fa così prende sta coperta la incendia la tira un altro e sta coperta finisce dentro il vano del motore se incendia la benzina tutti quanti vanno da una parte arrivano onde la barca si ribalta per la notte muoiono 368 persone quasi quanto il terremoto aquilano per la prima volta Nettuno il mar Mediterraneo dice all'Europa eccoli i morti che me fate fa eccoli le bare delle mamme e i bambini il pianto l'odore della morte eccoli questa volta non me li date questa volta ve li riconsegno eccoli i morti che me fate fa tra loro c'è una mamma giovane c'è meno di vent'anni è incinta mentre muore partorisce e viene ritrovata col bambino ancora attaccato al cordone ombelicale io la disegno così come se il mare prende questa mamma il presente e il futuro impedendogli di nascere e quella notte per me è come se arriva una maledizione in tutta Europa ma non è una notte seguita da un'alba è una notte seguita da un tramonto dal tramonto dell'umanità i lampedusani quella mattina erano in mare perché c'era bonaccia non c'erano onde tutto era liscio e c'era soltanto un leggero vento di scirocco che portava delle voci sono verte sono gabbiani no sono persone andiamo a vedere quello che sono queste voci partono e vanno là e quando il sole illumina il mare vedono queste braccia che chiedono aiuto e loro devono dire salvo lui o salvo lei sono tutti pieni di benzina è difficile tirarli sopra e ci provano e ne tirano su una quarantina ma quella mattina è un tramonto è il tramonto dell'umanità è il tramonto della costituzione repubblicana è il tramonto dell'Europa che guarda caso parla di diritti liberali solo quando li devono esercita i ricchi vedete io a volte pubblico i miei disegni sulle pagine facebook e arrivano gli haters gli odiatori che iniziano a insultarmi io vado a vedere le bacheche di queste persone sapete che scopro che l'odio verso gli uomini le donne i bambini è compensato dall'amore per i barboncini per i gatti per gli animali ma che cazzo del mondo è questo ma che mondo è quando arriva Stefan è dicembre è freddo apro l'ufficio dove facciamo l'internet point e mi dice posso connettermi in francese certo è difficile per i migrianti connettersi quando arrivano dalla Libia perché gli rubano il cellulare facebook richiede la password ma loro non hanno il cellulare quindi l'SMS non gli arriva quindi devi fare la procedura di ridentificazione ci vuole tanto tempo ma quella mattina riusciamo subito a entrare dentro facebook e Stefan comincia a entrare dentro i profili dei suoi compagni di viaggio comincia a scrivere rip 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 non smette più di scrivere rip e io gli dico ma che è successo e allora lui mi racconta mi racconta che è due volte che sopravvive un nafragio la prima volta per 12 ore è rimasta attaccata ad una boa 12 ore lui è un suo amico gli altri tutti morti arrivano i pescatori li riconsegnano alla guardia costiera libica li prende li porta indietro li mette dentro un lager dopo me si riescono a fuggire dal lager si ritrovano di nuovo in spiaggia con lo stesso mare lui sa che con quel mare si muore e dice agli altri ribelliamoci non partiamo così ma i libici gli sparano violentano le donne per dispetto e poi li mandano di nuovo in mare dopo sei ore arriva un'altra onda tutti giù tutti in mezzo dalle onde di nuovo dentro un'altra tragedia di 130 che erano e arriveranno a Lampedusa 17 io allora gli dico Stefan per favore ricordati tutti i nomi dei tuoi compagni di viaggio scriviamoli poi chiamo il parrino Don Mimmo gli dico Don Mimmo facciamo una cerimonia c'è stata una tragedia facciamo una cerimonia in piazza leggemo sti nomi e lui mi dice ma certo e allora andiamo lì in piazza ci teniamo tutti stretti per mano facciamo la cerimonia in chiesa musulmani cristiani atei senza Dio leggiamo sti nomi finisce tutto in un applauso e io torno a casa la mattina dopo sento bussà forte la porta apro la porta e vedo Stefan che ha due lacrime agli occhi che toccano terra e quando toccano terra sembra che sono campani ma che hai fatto Stefano mi sono scordato di ditte il nome qualche decina di minuti dopo essere stati salvati mentre venivamo su verso Lampedusa troviamo una donna che galleggia attaccata e abbracciata a suo figlio senza vita morto di ipotermia si chiamava Mohamed e io prendo la penna e scrivo il nome e il numero 117 io vorrei smettere di fare sto racconto lo dico sempre non sono né un disegnatore artistico né un teatrante sono un operatore sociale che racconta perché oggi noi dobbiamo raccontare memoria tramandare storie come elemento della resistenza ero a Scicli stavo a fare racconto come questo in fondo salzano due ragazze vanno via finisco di raccontare mi tornano vicino e mi dicono racconta anche di noi per favore una è nigeriana l'altra è camerunense una ha perso il bambino l'altra ha perso la bambina una parla francese l'altra parla inglese una la tomba l'altra no se la prestano le due madri le due madri cucite dal filo spinato della frontiera sulla pelle le due madri come vorrei smettere raccontare queste storie eppure devo perché devo caricarmi il dolore perché tutto possiamo fare ma non possiamo pretendere che a chi arriva dalla Libia gli mettiamo sul carico nelle spalle del racconto che devono fare per noi è la pesantezza della maledizione alla quale i nostri governanti ci hanno condannato farci del loro racconto lei o Elela se sentite la sua storia è perché ce l'ha sussurrata al mare o Elela era chiusa dentro l'agri in Libia erano tanti stretti cucinavano ogni tanto quel pugno di riso a un certo punto esplode la bombola del gas la fiamma la investe è completamente bruciata che fanno i libici la portano all'ospedale no sapete che fanno la mettono su un barcone insieme ad altri feriti come lei io vedo arrivare un bambino completamente stionato a Lampedusa lei è gravissima pensate al dolore di questa donna a mezzo al mare tutti stretti con la salsedine l'acqua il corpo completamente bruciato l'unica cosa che possono fare i suoi compagni di viaggio è cantare il suo nome pregare il suo nome quando la guardia di finanza salva queste persone sente questo nome i ragazzi della guardia di finanza sentono questo nome Uelela cantato pregato arrivano a Lampedusa ma Uelela arriva morta e come spesso avviene viene sepolta con un numero 12480 ma sti ragazzi raccontano al barista questa storia che poi la racconta il barbiere che la racconta la moglie che la racconta il parrino che la racconta a noi che la racconta tutta Lampedusa sto nome Uelela come un zussurro che ci dà il mare passa per tutta Lampedusa e succede che qualche mese dopo ad una nostra attivista del forum Lampedusa Solidale Paola Larosa arriva una mail da Palermo e in questa mail c'è un ragazzo eritreo che è arrivato in Svezia che scrive mia sorella era partita dietro di me doveva arrivare non ho più notizie di lei per favore se arriva Lampedusa vi prego datemi notizie questa è la sua voto questo è il suo nome Uelela se oggi venite a Lampedusa quarta fila del cimitero nuovo sesta tomba in basso trovate Uelela che io ho disegnato così col mare spinato sotto i piedi col fuoco dietro le spalle uno sguardo d'accusa eterno verso i governi occidentali che dice guardate quello che ci state facendo guardate quello che ci state facendo io accuso finché avrò vita fiato i governi europei il governo Gentiloni il governo Conte di crimini contro l'umanità abbiamo rinchiuso innocenti dentro un muro di filo spinato li abbiamo consegnati alle mafie libiche che fine hanno fatto i eritrei i nigeriani i somali che fine hanno fatto certo abbiamo vinto la guerra abbiamo chiuso la frontiera abbiamo vinto la guerra contro i poveri di questa guerra vinta nel bene o nel male noi popolo italiano ci porteremo i segni nella storia addosso io a Lampedusa li vedo arriva così questo ragazzo stava per ore rannicchiato sulla panchina davanti al nostro ufficio quando ci avvicinavamo a loro per chiedergli cosa avesse provavamo a dargli succhi di frutta acqua biscotti niente poi a un certo punto qualche giorno dopo i suoi amici ci dicono lasciatelo sta lasciatelo sta recalling Libia l'ombra della Guzzino che lo ha tormentato per anni non lo lascerà più e la frontiera oramai gli si è legata sulla pelle gli è entrata dentro lo ha mangiato una volta arriva il ragazzo al nostro ufficio ci fa vedere una foto è completamente tumefatto dalla tortura coi cavi elettrici un'altra volta arriva un altro ragazzo mi fa vedere mi alza la maglietta mi fa vedere è piena di buchi bianchi io penso che sia scabbia lo porta al pronto soccorso di Lampedusa e il medico mi dice guarda che questa non è scabbia sono cicatrici come cicatrici sto ragazzo è eritreo parla tigrigno è difficilissimo entrare in relazione con un ragazzo che parla tigrigno è una lingua incomprensibile però lui capisce di cosa parliamo allora va nella prende la busta della spazzatura e fa questo rumore è il rumore che io mi porterò addosso per tutta la vita poi se ne va io lì penso che lui è pazzo ma questo rumore mi rimane qualche settimana dopo invece capisco che è successo perché i suoi amici mi fanno vedere un video in questo video c'è un ragazzo nudo stesso a terra c'è un libico che ha una K47 davanti un altro che lo filma in una chiamata Whatsapp e si sente che dice è nelle nostre mani se non pagate il riscatto vedi che succede e quello che succede è che riprende una busta di plastica la mette su un palo di legno e l'accende ecco che erano quei buchi bianchi erano le cicatrici della plastica fusa ecco la Libia porto sicuro la Libia porto sicuro e se questo avviene agli uomini che succede alle donne che succede alle donne in pochissime hanno avuto il coraggio e la forza di raccontare una ragazza nigeriana mi ha detto in Libia mi hanno bruciato l'anima penso che una donna capisce che vuol dire noi uomini con difficoltà ma una donna lo capisce che vuol dire sta frase qualche mese fa sono arrivate delle ragazzine somali meno di vent'anni bellissime e con una naturalezza ci hanno raccontato una storia spaventosa una ha detto ci mettevano in fila accovacciate e poi arrivavano la sera ubriachi e ci chiedevano e ci dicevano tu 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 si portavano nella stanza nera ci violentavano e la sera dopo ritornavano tu 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 la Libia io ero sulla open arms potete pure dire che sono scafista del mare sì ma io essere scafista del mare che in criminale mentre scendiamo giù io dico al capitano dell'open arms speriamo che stanotte Nettuno sia clemente che dorma che ci sia mare piatto e che le sirene ci guidino nella salvezza e a un certo punto mentre scendiamo verso la Libia da lontano ci chiamano una luce piccolissima e noi all'inizio non capiamo cos'è perché è troppo piccola però diciamo andiamo là mettiamo la prua lì e poi a tutta birra arriviamo là e a un certo punto accendiamo i fari e quando accendiamo i fari io vedo una scena incredibile incredibile nel senso che non è credibile vedo un gommone piccolissimo pieno di taniche blu in mezzo a sto gommone ci sono tre ragazzi il più piccolo di loro ha 14 anni ha un aflebo al polso e tiene il carrello dell'aflebo in mezzo al mar mediterraneo alle due di notte tu trovi un bambino con aflebo al polso lo tiriamo su parla arabo io penso che c'è siriano poi dice che non è siriano è libico allora io prendo non abbiamo un traduttore che parla arabo prendo il blocco notes disegno velocemente queste tre figure con la flebo e il bambino e faccio un punto interrogativo grande lui capisce mi sorride quando vedo che sorride vedo che i suoi la sua bocca le sue gengive sono piene di sangue e poi mi tira fuori un foglio e io in questo foglio leggo leucemia e capisco prima delle bombe per il petrolio dei francesi gli inglesi e tutte le altre compagnie e dei delinquenti la Libia comunque gli ospedali ce l'aveva adesso che non ci sono più i bambini sono costretti a prendere la via del mare e te li trovi così in mezzo al Mediterraneo i due fratelli col fratello piccolo che sta morendo che provano a arrivare in Italia per salvargli la vita Mohammed è morto tre mesi fa al Gaslini forse per l'infezione che si è preso durante quel viaggio se era il figlio del ricco se c'era un corridoio umanitario sto bambino forse si era salvato vedete se c'è una cosa che a me mi sconvolge e lavora su corridoi umanitari e a Lampedusa su corridoi umanitari noi riusciamo a prendere famiglie di siriani dal Libano e portarle in Italia con un viaggio aereo sicuro i bambini ridono hanno le valigie hanno le scarpe non hanno la paura del mare dentro gli occhi ad attenderli non c'è la celere ma poliziotti sì tranquilli senza mascherine a Lampedusa invece le stesse persone gli stessi bambini vestiti uguali arrivano con la paura del mare dentro gli occhi piangono non hanno le valigie sono scalzi sono senza dignità ecco la cosa che ti fa impazzia è capire con quanta facilità tu puoi salvare le vite e con quanta facilità le fai morire il giorno dopo continuiamo a salvare le persone è difficilissimo salvare le persone in mezzo al mare io non capisco perché mi ritrovo dentro la rib della Open Arms un umbro che del mare non sa niente perché noi umbri abbiamo quella troscia del lago Trasimeno ma non abbiamo il mare si ritrova in mezzo al mar Mediterraneo col cannocchiale con una gommone velocissimo e devi cercare capire quel piccolo puntino che vedi e non vedi è un gommone ed è un gommone arriviamo là è difficilissimo fa il salvataggio io appena arrivo provo a mettere le mani sulla corda del loro gommone ma il mare mosso me le me le stacca con forza e mi segna allora dobbiamo costruire il meccanismo per cui quando il mare ci avvicina prendi alle persone e le portiamo sul gommone facciamo così una volta due volte tre volte io mi occupo di metterli in fila dietro in maniera tale che ne possono entrare più quindi il mio collega prende le persone le mette qua io le prendo le rimetto in fila e a un certo punto alzo un ragazzo che è alto più di me ma pensa come mio figlio e ho l'adrenalina mille dico ma senti quanto so forte ma sto ragazzo sembra fatto dei polisterolo è una cosa che dura un secondo poi continuiamo a salvarne altri ne salviamo 130 dura tante ore sta roba arriviamo sfiniti sulla poppa saliamo e la prima cosa che vedo vedo le donne che me salutano e mi dicono due cose due cose che il signor te benedica come dice la minonnada God bless you e l'altra please no Libia sono convinto che le riportiamo Libia sono convinto che le riportiamo Libia poi a un certo punto vedo lui sto ragazzo alto che sta così agganciato su un pezzo diciamo del tetto dell'open arms sfinito mi sorride mi riconosce che vado là l'abbraccio e sento che non c'è niente gli tiro via il giacchetto è ossa è ossa pesa 35 chili e dico ma che è successo perché sei così e lui mi racconta che in due anni in due anni chiuso in un lager in Libia lo facevano mangiare una volta ogni tanto lì dentro si ammala e non riesce a combatte per quel pugno di riso tutti i giorni e quindi si debilita e i libici quando capiscono che è oramai è finita per lui che non può essere più spremuto la mandano via non gli fanno manco pagare il viaggio il mettono sul barcone noi chiamiamo Pozzallo gli diciamo guardate che qui c'è il ragazzo che sta malissimo sta morendo proviamo a dargli del riso dell'acqua zuccherata gli facciamo una puntura ma non sente niente eppure arriva Pozzallo arriva il medico di Pozzallo lo vede e dice ma chi è che ti ha ridotto così lui lo guarda sorridendo dice la Libia allora lui lo prende lo mette sulle spalle scende giù dalla passarella lui mi riguarda e mi fa così c'è una cosa che noi altri perugini della curva diciamo sempre si chiama tigna vuol dire resistenza sto ragazzo sto ragazzo ha avuto la forza di arrivare di arrivare il giorno dopo andiamo a Malta scendo da Malta mi arriva un messaggio del mio collega Alberto Mallardo che lavora a Lampedusa e mi scrive Fra guarda che quel ragazzo che avete salvato Sagan com'è che lo chiamavi si è dicono che è morto dicono che è morto di fame di fame come fa mori uno di fame come fa scordate uno che temore di fame davanti dentro al portafoglio di sto ragazzo hanno trovato diverse poesie una sembra che è la scritta Primo Levi ve la leggo perché secondo me è importante che sta storia di sto martire della frontiera innocente venga raccontata si chiama Tempo sei maestro Tempo sei maestro per chi ti ama e per chi ti è nemico sai distinguere il bene dal male chi ti rispetta e non ti dà valore senza stancarti mi rendi forte mi insegni il coraggio quante salite e discese abbiamo affrontato hai conquistato la vittoria ne hai fatto un capolavoro sei come un libro l'archivio infinito del passato solo tu dirai chi aveva ragione e chi torto perché conosci i caratteri di ognuno chi sono i furbi e chi trama le tue spalle chi cerca una scusa pensando che tu non li conosci vorrei dirti Tempo ciò che non rende l'uomo un uomo finché si sta insieme tutto va bene ti dice di essere il tuo compagno di infanzia ma nel momento del bisogno ti tradisci ogni giorno gli errori dell'uomo sono sempre di più lontani dalla pace presi da satana esseri umani che non provano pietà o pena rinnegano tutto la pace scelgono il male si considerano superiori fanno finta di non sentire gli piace soltanto apparire agli occhi del mondo quando ti avvicini a loro per chiedere aiuto non ottieni nulla da loro non provano neanche un minimo dispiacere però gente mia miei fratelli una sola cosa posso dirvi nulla è irraggiungibile sia che sia tanto o niente tutto si può risolvere con la fede in Dio e con la vittoria degli oppressi tesfalidet tesfom detto segen che in eritreo vuol dire cammello morto di fame a Pozzallo il 18 marzo 2018 Anna Frank è in ogni barcone non perché oggi quello che avviene in mezzo al mar Mediterraneo è la stessa cosa che è successa durante la seconda guerra mondiale ma Anna Frank è in ogni barcone perché prima o poi prima o poi anche loro prenderanno voce e se non a noi diranno ai figli dei nostri figli e ai nostri figli voi da che parte stavate allora anche loro prenderanno voce e in queste barche ci sono persone che come Anna Frank chiedono protezione internazionale ci sono persone che cercano una vita migliore ci sono persone che scappano dalle guerre ma ci sono anche persone che scappano dalle persecuzioni e di fronte al mondo grande e terribile che stiamo lasciando ai nostri figli i diritti sono l'unico scudo l'unico investimento che noi possiamo lasciargli vedete portare il peso dell'accoglienza non è semplice non è semplice è un peso è un costo è vero c'è la crisi c'è la miseria non è semplice accogliere è un gran casino io non sono uno di quelli che dice ah è facile integrarsi no è difficile è un peso però sapete che vi dico che io preferisco portare il peso della solidarietà davanti alla storia che è quello della vergogna dei respingimenti questo è il periodo della scelta ognuno deve scegliere da che parte sta perché comunque si sceglie sia che si odia sia che si salva sia che si resti indifferenti io che vengo da una storia contadina e partigiana scelgo di stare dalla parte della solidarietà grazie 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 grazie